Sono stati molti i modi con cui i fiorentini hanno trascorso questo fine anno 2013. Per chi è rimasto in città si va dalla semplice festa in casa alla cena con gli amici in un ristorante, allo struscio per le strade del centro per poi assistere assieme ad altre migliaia di persone al concerto di Max Pezzali in piazza stazione. Ma c'è anche chi ha preferito atmosfere più rilassate, come per esempio chi ha partecipato all'originale, raffinata e creativa festa con sorpresa finale che si è svolta al Four Season Hotel Firenze. Prima di entrare nella splendida sala del conventino inondato di luci e colori e dalle cui volte affrescate prendeva una cascata di delicati fiori di cotone, gli ospiti staccavano una busta con il numero da estrarre allo scoccare della fatidica mezzanotte. Mentre molti posavano per l'abituale foto ricordo, nella sala vicina trionfavano genuine specialità toscane presentate con l'abituale gusto e fantasia dal Four Season e a tratti gli ospiti venivano deliziati da spettacoli di burlesco o danza. La serata con sorpresa finale è merito dell'incontro fortunato di due eccellenze, quella del Four Season e quella della gioielleria Fratelli Piccini al Ponte Vecchio che ha regalato al fortunato possessore del numero estratto a mezzanotte un bellissimo diamante seguito da una seconda gradita sorpresa. È previsto anche che la persona che avrà la fortuna di vincere il diamante venga da noi sul Ponte Vecchio e uno dei nostri designer si metterà a sedere e disegnerà quello che sarà il gioiello che lei desidererebbe realizzare. Quindi praticamente realizzerà proprio un disegno sulla base della volontà e dei desideri della persona. Un gioiello unico e senza tempo che ha segnato un felice inizio di anno per una coppia davvero fortunata. Grazie!